Soltare a sinistra Prepararsi a voltare a destra Voltare a destra e poi voltare a sinistra Alla rotatoria prendere la seconda uscita Uscire adesso Tenersi a destra Tenersi a sinistra 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 tenersi a destra e poi uscire a destra 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 Grazie a tutti. 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 Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Uscire adesso. Grazie a tutti. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Uscire adesso. Monta... Grazie a tutti Grazie a tutti Tenersi a destra e poi voltare a destra Voltare a destra Prepararsi a voltare a sinistra Voltare a sinistra Voltare a sinistra Voltare a destra Voltare a sinistra Voltare a sinistra Voltare a destra No, 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 no. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Siamo arrivati a destinazione. Alla prossima. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti.